Questa cosa è veramente inconcepibile per la mente umana Allora, questa è la Terra con un raggio di circa 6.370 km Facciamo zoom out e abbiamo Giove con un raggio di quasi 70.000 km E poi abbiamo la nostra stella, il Sole, che per poco non arriviamo a un raggio di 700.000 km E la stella più grande? Beh, guardate qui, ok? Inizia il zoom out e qua le cose cominciano ad essere divertenti È veramente assurdo, guardate, il Sole è quel puntino piccolissimo Mentre fa zoom out vi ricordo che è uscito il mio nuovo libro, Meglio Curiosi Che Intelligenti Ok, guardate qui, cioè, è una roba che non riesco neanche a descrivere Stevenson 2.18 ha un raggio 2150 volte quello del Sole Ovvero quasi un miliardo e mezzo di chilometri E avevo fatto anche un video, lo trovate nel primo commento, dove spiego meglio questa stella